Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jump It che siamo finalmente ritornati con una challenge di calcio in compagnia della Illuminati Crew Ragazzi prima di iniziare questo video volevamo darvi un annuncio molto molto importantissimo Ragazzi volevamo dirvi che il 14 marzo uscirà in tutte le librerie e online Dove? Dove? Alla sotto C'è stato l'eco tipo Uscirà appunto online il nostro libro come diventare ricchi con Youtube Funzionante Non è uno scherzo Funzionante al 99,99 periodico per cento Il titolo abbiamo voluto cazzeggiare Sì sì Abbiamo fatto il clickbait nel libro Il bookbait Anche perché con i pantaloncini sportica non puoi essere Ragazzi volevamo dirvi comunque che questa non è una biografia ma è appunto un manuale per Fare i soldi E fare tra virgolette Carriera su Youtube Diciamo che vi può aiutare Se state appunto iniziando questo fantastico percorso Mamma mia Si cazzeggia In modo ironico È appunto molto ironico Scusa tu hai raccontato quando menavi ai ragazzini Nel libro certo Comprate il libro e scoprirete i miei segreti Ragazzi oggi siamo qui appunto su un campo da calcio per fare una crossbar challenge molto molto particolare Perché non sarà la classica crossbar challenge ma sarà una crossbar Che non vuole fare nessuno Nessuno Con la scosta attaccata alla gamba A Giampi è salito il masochismo Così Nooo Quindi ragazzi ci attacchiamo questa scosta praticamente al polpaccio qui al girocchio Aspetta ma scusa perché non faccio No aspetta io voglio fare un altro 100mila mi piace Vai Ma perché ti vengono le tè sempre di più gli altri Più cattivo Più cattivo Attenzione Dai vai Ragazzi 100mila mi piace Jumpydeck Cancellerà l'account di Glash Royale Si 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 lo cancellai 100mila like Io 100mila like mi venderei pure la madre Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo questa challenge Non perdiamoci in chiacchiere ma perdiamo l'account di Glash Royale di Jump Cancellerà 100mila mi piace Ragazzi prima sottoporsi a questa tortura sarò io E infatti sono già armato di aggeggino qua sulla costa Io sarò il boia ragazzi Questo è il nostro aggeggino odierno Si vede Testa di prova Testa di prova Testa di prova Orcia troia Ai Ragazzi allora già ho particolari handicap a prendere la traversa Con questo non la prendo la brutta Vai jumpy 100mila like jumpydeck Zampi 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 Forza E non parti Zampi 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 comunque tu giampiero giampiero porca roia ma non lo spammare ne ho data una subito subito non ci pensare quarto tiro vai piccolo bastardo dai ecco la traversa l'ho presa certo vai scusa ho sbagliato la tua madre è partita eccolo eccolo non ce l'ho fatta per vedere cosa faranno i miei compagni di squadra ciao ragazzi sono caca e oggi vi farò vedere come prendere una traversa col no porca troia non ho fatto niente e sarò io a dargli la scossa diciamo aspetta scossa guardate qui ragazzi sono prontissimo oh pietro sono tutte bestie vado eh oh che bestia bestia per tiro perché devo fare sto video mannaggia al cazzo perché aggiungi cinque alla scossa no no col cazzo me la tolgo me la tolgo dai 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 porco può tirare si fa male dormi non devi dire le parolacce fa male oh pietro porco due oh pietro porco due oh dio caro ma dove ti ristormi fa male porca troia vaffanculo male vaffanculo io non voglio essere l'ultimo pure oggi raga cam ah ah no tu che cazzo fai sarò io ho sentito male sarò io il boia di spuna Andrea sto parlando al microfono io so io so male senza sbrigati datti una mossa credilo terzo tiro vai spawn eccolo oddio ma arriva in ritardo ma arriva in ritardo il segnale io ho una forza mentale è traverso è traverso è traverso è traverso sbrigati dai sbrigati spawn se non ti nascost搞are per schön dati una mossa camper ti distruggo dopo sappilo questo è tua questo èівuo buuuu ti cagani a ahahah prontissimo Non vedo ora, stai fermo Forse ce l'hai pensato, lo voglio fare per ultimo Non me l'ho fatto ancora Fermo, non ti avvicinare Non ti avvicinare Seduto 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 Abbaia 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 Prima di morire devi dire qualcosa No fra non l'alzare ti prego Fra non l'alzare Fra non l'alzare Non lo sto l'alzando, sto facendo vedere Lo vedo, se lo vedo si è messo a fuoco Giorgio eccolo Oh niente Non è possibile Dai su su Il tempo più scosse prendi Secondo me la prendi Eccolo Eccolo Stai andando a vomitare veramente Dai Eccolo 2 Ah Che fai Eccolo Basta Però sei stato l'unico che ha preso la crossbar Non lo scantela Costa a 80 Minchia 80 Che è il mio aschio qua Oh quello di prezzo lo posso fare io No, devo fare un cazzo Cometta a 130 Mi sto cagando addosso Aspetta Tienivi gli occhiali Il cappello lo vuoi togliere? No, no La vita te la vuoi togliere? No Oddio Aspetta aspetta Non me lo dà Non te lo dò Che fa così Mi sono accavallato un nebo Era il test di connessione quello Ok Eccolo Oh Oddio 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 Che l'hai alzata? Merda Fami vedere No Fammi vedere Non te la posso fare a vedere Dai Non me lo fa troppo forte Mi fa male il cuore È sul serio? Oh però no ho troppo alto Dai Ma continui Oddio No scherzo 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 lascosa gli addrizzo ai piedi non parlare male di me 100 mila Ma che modalità hai messo scusami addrizzo ai piedi Succede più forte Qui la scosta guarda sul collo Quarto tiro per me se la prende pure adesso cancelli Il video cancelli Direttamente no piano però giampi per favore Oddio Iscrivetevi al mio cazzo di canale Non farglielo fare più Ma basta Iscrivetevi al mio cazzo di canale Non manca Ronaldinho Basta Gian Piero basta Guarda sentimi il cuore Adesso soffrirò un pochetto Aia madonna santa Madonna Se la prendevi pure adesso Aia 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 Perché? Perché io ce l'ho fatta. Vabbè ragazzi sarò buono e imparziale. Ho capito? C'è pure la maglietta di Dubrasiu. Dubrasiu che Dubrasiu. Aia! Stai piano, vedi. Ho capito, ma ho fatto male lo stesso. Io l'ho preso 85, ragazzi. Ho capito, Cristo. Aspetta! Oddio! Oddio! Aspetta! Aspetta a me, guardate, te la do, eh. Aia! 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 Per poco! Per poco, per poco. Per poco, per poco. Non c'è pensato. Aia! Aia! Che cazzo! Aia! 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 36 Michele, tagliela! Aia! 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 Ragazzi, lasciatemi i piacere così i jumpi cancela che lascia via. Vaffanculo, basta di ruanizzare. Aia! Eccolo! Aia! Aia! Ho visto, non sta corto! Oh! Che mica fa! Sto facendo sbagliare. Dai! Hai qualcosa da dichiarare? Non prenderò traverse, perché io le prendo senza scossa. Tu le prendi sempre! È impossibile! Sì! Allora, io le prendo senza scossa. Allora, ma Shoshia non le prende mai senza scossa. È vero, ti ho aggiustato i piedi, devi ringraziarmi per questo. Però, con la scossa è un fire, a me mi fallo l'effetto contrario. Oh, ragazzi, ho aggiustato i piedi a questo. Quindi, io già lo dico, non prenderò traverse purtroppo, ma solo scossa. L'importante è dichiararlo. Che poi io non ero, oggi non ero on fire, ma ero on tunnel. Ma comunque dovete lasciare il like perché devi cancellare la Clash Royale. Basta! Ma ti immagini tutto lo shopping che ha fatto su Clash Royale, tutto in fumo, ragazzi, perché lo cancellerà. Vai, il vostro caloreste. Dai, ne prendi una prova prima. Aspetta, proviamo. SORCA DUE! Oh! Vettila! Una volta l'ho fatta, guarda! Ha 22! Secondo tiro, vai Luca! In ritardo questo andato! Vai, next step! All'orevole, all'orevole! Oh! Oh! Una canzone! Una sparodieti! Oh! Che cazzo ha? Si abbassa! Non lo fa troppo! Te lo giuro! Vuoi essere PewDiePie! Vuoi essere PewDiePie! Vuoi essere PewDiePie! Oh no! Sei tranquillo, eh! Sei tranquillo! Calmo! Stai calmo, eh! Oh! 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 Che scientificamente testato che la scossa è più alta fa prendere le traverse! WTF! Pure con la scossa! Stiamo sottoprendo al camper al fasciaggio per la tortura. Facciamo una prova per favore. Vorrei il telecomandino? Vorrebbe il telecomandino. Te l'ho fatta e non hai... Si, ma hai fatto un pezzo di miazza. E non ha ti tupato niente! Smetti! Io ti cazzo dai new channel! Sai che... Io ti ammazzo di scossa! Ragazzi, qui oggi si scioglie il canale ai noob channel. Diventa uno ai noob e l'altro channel. Allora, io vorrei tanto una scossa! Una settimana di ferie dai noob channel così... Ferie non pagate! Ferie non pagate! A cento di scossa! Sparca! Non si dì! Forca puttata! Non si dì! Quanto l'hai messo? Ma basta! Ma che hai messo in set? Ferie pagate... E... Dipendio raddoppiato! Col cazzo! Uuuu! Ma tira le mine nonostante la scossa! Eh... Camper è un po' troppo resistente, devo aumentare! Dai fermo! Ma non senti niente! Uuuu! No, ancora! Vai! Sta soffrendo! Ma non fa la spam! Eh, ma sì, ma non corri! Che dobbiamo fare? Mi ha dato il mio di partire! Ragazzi, Camper è un po' troppo resistente! Spawn nello spam! Fermo! Fa la scossa! Ma che è? È un bel ricordo! Che fa? Eh! Il pallone nuovo! Quando ero rinchiuso ad Arkham City, ho subito torture peggiori! Ma lui non soffre, scusa! Ma non soffre! Ma non soffre! Che uomo! Che uomo! Lui tira duro! Si mantiene, no? Non esprima niente! Il suo dolore non lo esprima! Ma che ho per poter me partorire? Cioè, ragazzi, io non so cosa fare! Mettila 80, per favore! Oh, se adesso non senti niente, è veramente preoccupante! Oh, io ce l'ho messo a 20, Prima! Si, no, è a 20! È il complementare di 20! Ma... 80! No! Ma basta! Subito Camper, sennò te la fa partire! Oh, ragazzi! Ma non sente niente! Ma quanto è? Non sente niente! Io t'ammazzo! Per favore, se lo devi ammazzare davanti da Cam, grazie! Manca un tiro! È viola, raga! Ma giuro che era 80! Ma porca di quella porcana! Ragazzi, quindi per questa challenge era tutto! 100.000 like! Direi che è quello... 100.000 mi piace! Basta! L'hanno capito, però... Che succede? Scrivetelo nei commenti! Abbiamo capito che quello più resistente della crew è Camper e quello meno resistente è... Giorgio! Giorgetto! E dove va? Palestra! Pollo! Albumi sbattuti al muro! Proteine! È più piccolo! È più piccolo della crew! No, palestra! Però aspetta! Grazie! Devresti dire chi è che ha vinto questa challenge! È la challenge l'ha vinta! Il nostro McShot! Ragazzi, vi ricordo appunto che uscirà giorno 14 il nostro libro! Lo trovate online in tutte le librerie d'Italia! L'uscita del libro, ragazzi, ci consentirà anche di reiniziare finalmente il Noi da voi! Quindi, arriveremo nelle vostre città! Restate sintonizzati sui nostri canali e sui nostri social! Perché vi comunicheremo le date a brevissimo proprio! Quindi, mi raccomando, seguiteci! Vi ricordo di passare anche su tutti i canali dell'Illuminati Crew! Perché questa è la settimana Illuminati! Ci sarà un video di calcio, appunto, uno su ogni canale, ogni giorno! Ringrazio Sport City di Trigore per averci ospitato per la visione di questa challenge! Quindi, ragazzi, da Jumpy Tech e dall'Illuminati Crew è tutto e... Ciao, ciao!